Stop al trasporto per disabili ed anziani fino a venerdì. Una settimana di disagio, poi tutto dovrebbe tornare alla normalità. La nota firmata dagli uffici comunali, settore educativo e socio-culturale ed inviata alla sindaca giaciglia francese conferma lo stop posticipando il ritorno alle normalità della prossima settimana. La nota firmata dagli uffici comunali, settore educativo e socio-culturale ed inviata alla sindaca giaciglia francese conferma lo stop posticipando il ritorno alla normalità della prossima settimana. Continuerà quindi la temporanea impossibilità per chi soffisce del servizio di poter salire a bordo dello scuola bus che in questi giorni viene sottoposto ad una serie di interventi manutentivi, ordinari e straordinari. Un mezzo, nonostante gli anni, che continua ad essere utilizzato per il giro anziani e disabili dei rioni al cimiterio e per il trasporto disabili al centro città alla piattaforma PitBat3 nella litoranea di Battipaglia.